Eterna giovinezza, mite o realtà? Siamo venuti questa mattina al convegno organizzato da Terziario Donna, 50i più e Stella Scarpa Beauty Expert riguardante una tematica che è veramente fondante. La terza età è come vivere bene la vecchiaia che in effetti abbiamo ormai, ci sono dati ben precisi, ben individuati che ci dicono che è scalata di diversi anni rispetto al passato. Sono tante le tematiche affrontate in questo convegno, la più interessante sicuramente è quella che riguarda l'epigenetica, cioè come effettivamente il DNA influisce, cioè i nostri geni influiscono sul processo di invecchiamento, ma come far sì che questo processo di invecchiamento possa effettivamente cambiare con gli stili di vita. Oggi, considerando che nel 2023 circa il 24% della popolazione è ultra 65enne, è chiaro che tutelare il ruolo di un quarto della popolazione italiana è un compito non da poco. 50i più è una delle tante associazioni che in Italia si occupano di questo. Noi in particolare a Pesaro abbiamo deciso e scelto di dedicarci soprattutto alle questioni relative alla salute e al benessere psicofisico. Nel cercare di raggiungere i nostri obiettivi di tutela di tutta questa fascia della popolazione e cercando di declinarli attraverso la lente della salute, ecco quest'anno siamo arrivati, dopo varie esperienze ormai che si tramandano da dieci anni, a parlare di epigenetica o argomenti simili a questi. Cioè infatti il nostro comportamento quanto è importante all'interno di un DNA che ci viene dato per natura. Insomma quanto dobbiamo in qualche modo sottostare alle leggi della natura e quanto noi con i nostri comportamenti possiamo cercare di migliorare la nostra vita, soprattutto nella sua durata e nella sua qualità. La genetica ci ha insegnato che noi quando si nasce abbiamo il nostro destino segnato, l'epigenetica molto più confortante ci dice che in fondo noi possiamo agire sul nostro itere biologico e quindi modificare in fondo ciò che madre natura ha determinato. La popolazione comunque sta diventando molto più longeva e quindi chiaramente è un argomento molto interessante e noi come imprenditrici vogliamo affrontare per tempo questo argomento stimolando le nostre associate a creare imprese o quelle che hanno già in questi settori. È impossibile non invecchiare ma è possibile invecchiare bene e soprattutto ad un ritmo giusto, sostenibile. Noi lo definiamo uno slow life, uno slow aging, quindi delle azioni slow che vanno a rallentare nel nostro quotidiano proprio l'invecchiamento. Quindi per noi è proprio un volere trasferire tutte delle nozioni che a volte rimangono anche un pochino nascoste e non vengono comunicate al meglio e soprattutto vorremmo che questo incontro di oggi potesse anche sdoganare un pochino il concetto classico di bellezza e far rientrare proprio in quello che poi il termine estetica riconduce, no? Se pensiamo che deriva dal greco il termine estetica, estesis, e vuol dire proprio percepire. Quindi ritornare ad una percezione di sé in maniera più sana. Grazie a tutti.